Un fondo da 500.000 euro per tre anni per sistemare gli alloggi di proprietà del Comune. Questo è stato messo a bilancio nell'ultima seduta del Consiglio Comunale per incentivare l'edilizia residenziale pubblica. Sentiamo un dovere di far sì che vengano tutte messe a disposizione, perché il tema è che dei 1.658 alloggi che sono di proprietà del Comune ce ne sono 323 che attualmente non sono assegnati in quanto non agibili o con necessità di ristrutturazioni importanti. Quindi la cosa importante che è avvenuta con l'approvazione del bilancio del 2024 è stata la previsione di un fondo per i riatti di 500.000 euro all'anno per i prossimi tre anni che sommati ai 300 che erano stati assegnati nel 2023 fa 1.800.000 euro che il Comune mette proprio per garantire il riatto di tutti gli alloggi di nostra proprietà che attualmente non possono essere utilizzati. Questi fondi si inquadrano però in una serie di interventi per cui il Comune ha stanziato 40 milioni di euro tra bonus 110% e altri progetti a bando. Questo è per me un passaggio molto importante che si va a incrociare con un lavoro importante di mappatura di tutti i nostri alloggi non utilizzati che ha permesso di individuare in modo chiaro quali siano i lavori necessari in ciascun alloggio perché possa essere poi rimesso a posto. Quindi incrociando il bisogno degli alloggi, i soldi che oggi finalmente avremo e i bisogni dei nuclei che sono nella graduatoria di edilizia residenziale pubblica avvieremo una stragione di riatti continuativi che ci permetteranno di riavere tutti questi alloggi a disposizione.